ma è serio che cazzo di bug che c'è in questo video di cubo quattro volti quattro volti è un altro ok ma c'è il tetto sono morto non sono morto un bollione capanno di capanno di umuletto veloce no no ho preso tutto il muletto cristo fuori capanno di cosa ho giallo dentro capanno di ah si ma ero preso tutto il muletto ultimo volte sul muletto soccante non c'è qua oh raga no no ma sei un coglione ma siete malati sei un coglione cap è andato donna sono in due sono in due oddio che tre paio sono scoperte quello ho scoperto no eh qui c'è in bombarti giù ci sono guarda 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 ti rah ho visto fai che cosa no il cross e non recoil forse tutti i cubo tutti i cubo tutti i cubo farò lo shot l'amu tutti i cubo non fateli non vi fate vedere in cecchi non fate manco un basso dai cecchi non vi dovete fare vedere dai cecchi dai cecchi i cecchi meno 95 in test se non mi fate vedere tu ti apri di mira sopra se vengono esatto ma uno si sta buttando pure loro restano tranquilli capito si infatti wow gabry togli di da così non hai colpi blu togli di da così si mette così ognuno fermo devi stati fermo ma trova è male ma così fermo ma perchè mi dici togli di da qui che non hai rimesso lì oh no tutti quanti qua pronti sono chissà come hanno indovinato che non siamo stanzi io non lo so mi sto manco di fare il video e lo discuteremo e va beh è è infatti il nostro propago non e ma sono andato mi sa non vuole prendere mi hanno detto che eravate la eh ancora pensate che citto io oi oi che ho collendato non ti farò cittadino con l'emba non ti farò cittadino con l'emba ti ha visto ti ha visto non mi era amare l'hai visto qui sotto ecco prima te l'ho detto un quarto d'ora fa mi sa tunnel si sono ammassato non mi può prendere è impossibile non mi può prendere sei sopra stanza uno raga salite nei tetti stanza uno è cubo no è riuscito questo carpe stavo citando un punto ho detto cambierò il detto cambierò come 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 non lo so giocate così mi chiami fate incazzare perché loro citano quindi sanno sempre dove siamo dove sei sei buco di fabbio e buco di fabbio no sono fabbio allora perdete lo sai che cazzo stai facendo dentro fabbio in mare si scendono fabbio in mare si scendono fabbio in un buco di leleva di acqua cabbio e leleva di e lo so un maro ma ho detto ma no ma che non mi chiede qua cabbio così ti spacca sopra fabbio dov'è l'altro sopra fabbio sopra fabbio mi mira si e lo indetto lo vedi salta salta 56 tutto questo camberiamo camberiamo ancora detto giovanni va bene oh bare